o la luce d'orese tremendo i tormentatori di tacos ben ritrovati dal vostro silver con un frappo di novità a cominciare dalla sigla che appena avete appena visto gentilmente prodotta da mods killer di cui vi metto il link della pagina youtube qui in descrizione sotto quindi potete linkare entrarvi iscrivervi e poi fare casino logicamente dite che vi mando io mi raccomando seconda novità tutta la disposizione geometrica ho fatto un po di cambiamenti vedremo un po se mantenere questa cosa intanto e a me piacerebbe c'è più spazio più iea infatti ho fatto questo cambiamento per il vr e il terzo cambiamento ragazzuoli riguarda la maschera perché io devo chiedere venia ho fatto casino nel conteggio perché è andata persa una domanda nello speciale mille iscritti la domanda di soldato del futuro da cui ho dato anche la colpa obiettivamente di avermi fatto la domanda dal futuro quindi io non potevo averlo persa e quindi non avevo conteggiato il suo voto il suo voto era maschera no quindi voleva il silver smascherato quindi dovrò pagare pegno lo pagherò in questo video leverò la maschera per la gioia di grandi piccine soprattutto per levarmi dalle balle il concetto del caldo però prima di farlo due cose velocissime velocissime il silver va in vacanza va in vacanza per una quindicina di giorni poco più 16 17 buono ne ancora ben definito sarò tra piemonte liguria varierò un po e quindi mancherò per qualche giorno ma i video continueranno ad uscire non con la stessa cadenza uscirà solo skyrim per la prima quindicina di agosto e quando rientrerò avremo una gran bella novità come sapete esce el blade shenua sacrifice qualcosa del genere se non ricordo male mi sfugge il titolo preciso però dovrebbe essere quello e sono impaziente di metterci le zampe sopra porteremo il gameplay mi dispiace perché in realtà con i saldi di questi giorni avevo preso un altro gioco per il vr che era di wild volevo portarlo sul canale ma è inibita la registrazione volevo farne solo una recensione perché non aveva senso fare il gameplay però è fuori di testa è uno sparatutto a postazione fissa si gioca coi move armi deliranti e via dicendo e tanto divertimento praticamente pesci gabbiani che ti caccano in testa e robe simili roba roba veramente divertentissima se avete un vr dateci un'occhiata perché costa poco che i saldi di questi giorni e quindi come dicevo sarò in ferie per qualche giorno uscirà skyrim ci sono episodi già registrati fino a metà settembre ne avrete e se ne vedranno delle belle perché logicamente adesso mi sto concentrando solo su quello quindi sto producendo molto la seconda cosa è che va bene sedetevi ragazzuoli ho preparato la sedia perché è il momento del levaggio maschera quindi per farlo per farlo dovrò levare momentaneamente le cuffie ecco siete pronti mi auguro che guardiate questo video lontano dai pasti come giusto che sia perché ci tengo la vostra incolumità poi non dite che non vi voglio bene ok siete pronti siete pronti ebbene sì luciatore sotto la maschera argentata del silver si cela in realtà l'uomo invisibile ecco perché ero costretto a tenere una maschera perché sennò non potevo palesarmi infatti per quello che i gameplay li faccio senza maschera perché voi sentite la mia voce ma non mi vedete lo so è alle volte una scelta difficile una cosa che si contrappone alla realtà lo so sto dicendo un mucchio di minchiate ma voi lo sapete che il silver un attimino di suspense la deve creare ve la deve mettere un attimino nel secchiolo passando dal pertugino e quindi voi vi dovreste chiedere silver ma con questa cisionescianza e voi non avrete una risposta sensata perché sinceramente non lo so ecco io spero che ora siete preparati perché sto per ricomparire a schermo e ci sarà appunto questa novità io spero che siate pronti a riguardo non mi prendo responsabilità ve l'avevo detto no new silver is coming nuova veste grafica ragazzuoli nuova veste grafica io la maschera del silver l'ho tolta conquisterò il mondo io col mio esercito di mugne no in realtà no non ho queste mire non sono una così brutta persona e no non è la maschera di rei misterio prima che ve lo state chiedendo no questa è la maschera di shocker e quindi per scioccare ho deciso di indossare per una volta la maschera di shocker anche perché ho avuto modo di conoscere la vita di questo lottatore tuttora in attività nonostante l'avanzata età e tanti sacrifici che deve fare e ho un nuovo mito e lo ammiro veramente tantissimo quindi poter indossare questa maschera per me è veramente una cosa da tributagli ecco spero che la sorpresa vi sia piaciuto lo so qualcuno di voi mi odierà io la parola l'ho mantenuta la maschera del silver l'ho tolta adesso sta a voi spolliciare e commentare magari non insultandomi ecco grazie se vi piace di più questa ho la vecchia faccia del silver logicamente il cambio di maschera contrappone anche un cambio di personalità potrei essere molto molto più cattivo credo non ne sono poi così convinto comunque sia vedremo vedremo lo scopriremo quindi luciadores mentre voi rimuginate su questa cosa e ammirate la beltudine di questa maschera il silver vi augura buone vacanze ci vediamo al nostro ritorno e nei commenti vi chiedo per cortesia scrivetemi una lista dei titoli che vi piacerebbe vedere futuri e presenti io farò una cernita in base anche a quelli che ho in mente perché logicamente da quando ci sono stati i problemi su youtube per via dicendo delle censure delle modalità con restrizioni logicamente è diventato problematico avere un resoconto sensato di quello che si fa le visualizzazioni sono calate tantissimo a tutti quanti molti si chiedono perché si va davanti a fare questa cosa lo si fa per passione per divertimento perché oramai ragazzi siamo ben più di mille ho fatto lo speciale per i mille iscritti non me ne sono neanche accorto e puf siete già 30 di più lo so sono numeri che sembrano piccoli ma per me sono sempre tantissimi mi ricordo con emozione quando ho tagliato il traguardo dei primi 50 iscritti ancora non ci credevo perché pensavo non mi avrebbe caccato nessuno e ancora nessuno mi ha picchiato infatti facevo il conto l'altro giorno che ho tagliato il traguardo dei 50.000 messaggi ricevuti a cui ho risposto e solo quattro erano di insulti di cui uno ha ritrattato due erano scherzi e uno no ero un fan di sabato che mi ha coperto di insulti perché facevo la serie su dark souls 3 quindi va bene portiamo a casa almeno che quello quindi sentitevi liberi di farmi qualche messaggio di insulto per giusto per non lo fate io mi diverto lo stesso alle spalle vostre niente luciadores io con questo vi ringrazio vi auguro nuovamente buone vacanze e ci vediamo al mio ritorno nei vostri incubi o nei vostri frigoriferi se avete dentro qualcosa di fresco da bere perché questa maschera è ancora più calda di quell'altra perché è imbuttita e questa è una vera maschera da lottatori così niente vabbè luciadores io vi saluto e ci vediamo alla prossima buone ferie